Ragazzi sti gran cazzi No Oggi siamo con Andreo Testiamo tutte le nuove ruge Ma perché quando ti ho chiamato Che ero appena uscito dalla palestra Sentivo in sottofondo tua madre Che bestemmiava tua sorella Perché si Eh le sento ancora adesso Le munizioni e le risorse Costruzione hanno uno spazio di archiviazione a parte Non occuperanno gli slot dell'inventario La maggior parte degli oggetti Si trova all'interno delle casse Ma va Dentro le casse cosa ci dovresti trovare Fra Le casse nelle casse Ah dentro le casse trovi le casse Dentro le casse Eh perché devo sistemarmi Ok Il microphone Ma si sente bene Ma fra ma io vedo tipo il 4k ultra Lgb plus In che sei Ma che hai installato il Fra vedo la grafica Tipo Cosa hai installato l'RTX 4090 Quello che costa 2000 euro Ma che cazzo Ma perché fra te è caricato Io sto ancora nella Io sto ancora in connessione in corsa Come Ma è carbura Io sto nel bus Ma a me sa ancora caricare Un carbura Fra ma io vedo tutto 4k ultra hd lgb plus Eh si sto cazzo Cosa hanno fatto scusa Ma sta ancora in connessione Dio porcone Vedo tutta l'erba in 4k hd plus Lgbt ultra Ma te cosa esce Che sto ancora nel bus RGB Fra cosa esce Che sto ancora Ma porco dio Momis Ma si è svegliato Ma tu dove E' tra ma guarda Io dove sono E' porco No fra ma io non ho scoperto Un grandissimo cazzo Di niente Di stavano Andiamo nella zona Anzi no Dividiamoci Pro O Siamo Che cazzo è Vabbè fra Io vengo qua Tu Tu prendi Lutto che sta E poi vieni Ma non ho messo Tipo il tattico Si Ma che pompa è Quello là L'unico Come si chiama Come si chiama Specialista Ah è Hai presente Lady shotgun Quello che Porco dio Fra Guarda la mia vita Ma che cazzo Fra ma io sto ancora Atterrando E questi qua Già mi hanno colpito Ah comunque Fa stanno I potenziamenti Però non so come Come si fa Ma io devo diminuire La sensibilità Perché se no Fra ma Com'è che si fanno I potenziamenti Come si fa Ma io continuo a vedere In 4k Ultracardietti E gbt E anch'io Fra sta laggando Più laggoso Di un laggoso Ma io non sto laggando Però Ok Io ho scatto Non è che la Ok I nemici colpiti Con il fissile Gli oggetti che distrugge Avranno la probabilità Di lasciare Scusi Esclude la struttura Così Vai Facciamo Anzi no Io non sto capendo Niente Sono Ti spiego io Così Delle robe Io ti spiego E' il tuo primo utilizzatore Della città Così Cosa Martellon da 2 Cos l'hai trovato Eh ma c'ha 4 Un martellon Come 4 Utilizzi Ai ta Vieni 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 Lo voglio provare Già scritto Già scritto 4 Vediamo Vediamo Dammi Voglio provarlo Lo faccio vedere Anche in video Vieni da me Vieni da me E porca La puttana Oh Che cazzo Fra dammi Dammi Voglio provarlo Eh ma si deve tipo Ricaricare un botto Vabbè dammelo Dammi Dammi Porca La puttana Bellissimo Non ve lo fai provare No E dai E' il mio nuovo giocattolo Ma soccati il cazzo Perché non mi sto Ma ma che cazzo succede Sto utilizzando lo spray Non mi sto curando Perché non lo senti Il zannos di te Sì Ma che cazzo Ma che cazzo Ma una nuova fisca Ma guarda il fuoco Guarda il fuoco Che cazzo E adesso arriva Quello di fisica Eh sì Lasciami fare il co Ma guarda qui puoi ribazzare Bellissimo E mai come faccio a capire Se è bellissimo Se non ce l'ho Eh non lo dobbiamo trovare Eh sì Vabbè l'ho trovato per terra Così Come per terra Eh per terra Non dentro Vabbè l'avrà Forse è morto Ma posso fare gli upgrade E grazie a chiola No l'hai capito Gli oggetti che ti distruggevano Una probabilità Di lasciare esplosivi Sì Sì Primo ti dà esplosivi in più Cioè ogni volta che rompi qualcosa E' una probabilità di Trovare esplosivi Mentre il secondo Porco dio Ecco me Dizze granate Ho trovato Oh Che c'è Mi sparano Io adesso uso solo Lo pusho Guarda fra Guarda fra C'è un altro aggiornamento Dove cazzo sta Vai rompilo Ma perché faccio L'ho scattato Fra E' una probabilità di giocare Le pistole hanno una capacità Del caricatore Facciamo Questo Sia Ma Fra io Premo Quora Fra io Premo Ma c'è un scar Verde Ma che cazzo Sta Scusate No Fra Perché Hanno cambiato Ma al posto Dell'm16 C'è C'è Lo scar C'è Ma Tutti Gli assalto Sono così Sto Ci Qua Vabbè No 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 Anche Io C'ho La Ricarica Rapida No Io C'ho La Pistola Ok Schifo Ah Guardano Cambiato Pure Questa Granata Guarda Hanno Aggiunto Che Questo Senti Po Ti Faccio Dire Che Schifo Che Tristezza Che Poi Non L'hanno Aggiunto Già Stavo Aspetta C'è Il Fumato C'è Il Martello Non È Giù Ma Guarda Come Brucia Tutto Fra Infiamma Un Albero Voglio Vedere Che Succede Infiamalo Voglio Vedere Come Come Grafica Di Quando Infiamalo Devo Infiamare Il Coq Si Va Infiamalo Infiamalo Il Cazzo Vediamo Come Diventa Porco Dio C'è Più o Meno Si Creano Le E Stanno Le Moto Ho Aggiunto Le Moto Cos'è Cos'è sto POMPA Fucile Pesante Del Tuolo Trae Gente Li Lascio Ma è vero Ma sono Automatiche Le pistole Me L'ho Dimentica E Sono Morto Ma Sì Scorri Ma Che Cazzo Stai Facendo Mi Stai Zitto Che Cazzo Sta Succedendo Qua Non Ho preso Il Martello Ti Dico Solo Una Cosa Sanno Dove Sei Oh Merda Aspetta Pio Devo Mettere Un'importazione Passa Che Ho visto Succhi Che Te Cazzo Ma Dove Cazzo Fa Sei Morto No Però C'è Pochino La Sopre Merda Ma Dove È Cazzo Questo Da Da Ma Vai La Fiesta Aspetta Metti Preparati Io Devo Fare Una Cosa Devo Mettere L'impostazione Che Impostazione Dei Mettere Il Giroscopio Ma Che Dei Mettere Il Giroscopio No Avevo Vissi Una Ruba Di Danni Che Si Somma No Che Si Vedono Tipo Che Si Vedono Tipo Una Sopra La Aspetta Eccolo Visto Che Cosa Che Messo Roberto Oggi Ha giunto Qualcosa Alla Sua Storia Ma Sai Quanto Me Ne Fotte Perché Ha Fatto Vi Piacciono I Mipi E E E E Da Farmi Mandi La Foto Dei Piedi Sin Fra Ma Che Cazzo Stai Facendo Con Le Impostazioni Le Impostazioni Cosa Stai Cambiando Che Me La Cambio Anch'io Ma Dimmi Almeno Cosa Stai Facendo Perché Si Sente Ma Cosa Sta Succedendo Fra Cosa Sta Succedendo Io Sto In Connessione In Corso Cosa Devo Capire Cosa Sta Succedendo Dal Tuo Schermo E' Tutto Baggato Sto Forno Ok Ci Sono Porca Vai Bello Il Frame Bello Il Frame Lago E Porca La Puttana Ecco Lista Ok Ho Fatti Vai Frateriamo Qua Buttati Vai Ah Mi Devo Buttare Tu Non Mi Dici Che Cazzo Devo Fare Ti Spiego Vado Di prestare Attenzione Nel trailer Eh Sì Il Mio Cazzo Trailer E' Duro Si Devo Ci No Era Pai Morbido Vai Via Ma Ma Puoi Scavalcare Ma Ma Che Cazzo Ma Puoi Scavalcare E' Nessuno Fra Manco Io Lo sapevo Sta Rugo Ok Io C'ho Già Un Po Ma Che Figo Martello E Sigo Martello Siamo In Doppio Martello Ma Com'è Che Non Ce L2 Ma Hanno Messo Minchia Ma Quanto D'anni Fa Quanti D'anni Fa Martello E Però Tipo Puoi Fare Quattro In Banzi Poi Sì Vabbè Ma Ma Tipo Mi Sono Già Taccando A Devo Scappare Madonna Frase Arrivano Ma Ma Quanti Danni Fa Con Il Rimbalzo 75 A Colpo Ma Tipo Se Io Cioè Quando Io Rimbalzo Faccio Danno Ogni Volta Che Tocco No Bellissimo Stato Così Così Cosa Del Ah Che Somma No Che Tipo No No Che Ti Dopo L'altro Che Vuol dire Che Le Mette Uno Dopo L'altro Aspetta La Facciamo Ecco Vedi Si Capisci Quando I Prato Le Deci Secondi C'è Potenzialmente Tra Un Altro Martello Fra C'è Nuovo Fra C'è Il Fucile Nuovo Quello Bello Ma Se Fai Il Kill Ha Potenzialmente No No Quelli Là Si Creano Nel Tempo Se Gugge I Nemici Con Aves Ma Non Le Armi Che Usano Munizioni Se Vivo Questi Se Ne Fotte Guarda Guarda Quest'arma Fra Guarda L'ex Calibur Perché Lasciate Il Martello E Ce Ce L'ho Già Fra Il Martello As Spera Ma Se Lo Usi Ti Ma Tipo Si Scarica Da Tutte E Due Martelli Si Scaricano Se Usi Cos'è Fra Vieni C'è Un Succo Schiaffoso As Beviti Il Succo Schiaffoso Ah Ti Aumenta Il Co Ah Sei Speedy Gonzales Eh Grande Ma Fra Ma Però Sto Fucile È Rotto Sai Come Funziona L'ex Calibur Ma Che Cosa Che Dato Scusi Sai Come Funziona L'ex Excalibur Sì Ma Io Voglio Pridente Fra Sparo Un Pro No Non Lo Voglio Ma 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 Fra È Presente Il Cecchino Con L'esplosivo Che Sta In Migrativa No Oh Il Barret Esplosivo È La Stessa Cosa Guarda Vieni C'è Fermo Oh Fa Sboccare Fra Fa Settanta Di Danno A Colpo E Fa Il Martello C'è In realtà Fa 120 Ah 120 20 Hai da Pronto Quanto Tua Mamma Sto Martello Fra E Non So Se Spamma Verà Meglio No Ma Fra L'arco Quello Puzzone Prendilo Prendilo Fra E Buonissimo Io mi Bevo Il Suggetto Ficatelo Il Culo Il Suggetto Porca 5 Sugchetti Ci Attiva Me Ne Dai Uno Ma Succhetto Ti Rigenero Anche La Vita No Ti Ho Dato Tutti I Succhetti Grazie Su Parcere Meccanico Amati Dà La Stamina Infinita Il Succhetto Vai Ma Sto Tipo Di Steroidi Prendo Questo Tanto L'arco Non Lo Uso Vabbè Dove Andiamo Ho Fatto Ma Come Faccio Ad Essere Già Livelo 6 E Faro Già Livelo 7 E Ma Tu Ci Hai Già Giocato E Nerdato Ma Che Cazzo Dici Fra Che Non Ma Ho Giocato In Creativa Non In Lecidi Casa Ma Stai Zisto Cos'è Lo Scar Verde Fra Lo Scar Verde Ma Dove Cazzo Vai Ho Stato Il Power Of Martell Porca La Puttana Fra Da Me Fra Da Me Mi Stanno Entrando PINCA VAC Vai Fra Andiamo Mo Gli Fai In Casa Vai Anch'io BOOM Eh no Però BOOM Dov'è Ok Ma Dov'è No Fra Vedi Che Siamo Rattissimi Eh Però Io C'ho Trenta Di Vita Come Trenta Di Vita E Minia Mi ha Colpito Un Bel Po Perché Ho Lasciato Il Mio Fra No 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 Perché Lo Fa Fra Prenditi Così Di Scindini Se Io Voglio Io Voglio Testare Perché Non mi Da Il Il Excalibur Sì Ma Non mi Fa Fare E Grazie Fra Non È Pronto Se Non Te Lo Fa Fare Ti Piesso è pronto Premere freccia Sì Destra Sì Allora Sei Rocco Nel Vero Anzi Prova C'è Porca La Troia Vai Addosso Ai Tizi Mentre Io Da Lontano Voglio Provare Fucile Excalibur Perché Mi Piace Andare Lì Addosso Tutti Nell'osso Diventiamo Aspetta Che C'è Un Upgrade Buonissimo Ho Presso La Credo Quello Là Che Se Vado Nei C'è Spur Mi Posso Curare Ma Che Cazzo Fra Vinic Cos'è E Li Sua Rivol In C'è Ma 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 Mi Sali Posso Salire No Non Credo Perché Te Non Sali Non Posso Sali Che Succede Oh Aspetta Mio Dio Merda Vai Vai Carbura Carbura Deadpool Aspettavo Vedere Vai 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 Aspetta 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 No Aspetta Devo Prendere Accelerazione È Tutta Stolta Stamote Madonna Mia Chi Ha Osato Fra Scegli 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 Adesso Basta Adesso Basta Ah Vuoi andare Con Aiuto Aiuto Fra Stanno Da Da Un So Dove Ah È Vero Ci Spuggi Ti Ti Spacco La Madre Fra Ammazzato L'Irna Sit Madonna Mia Fra Qua c'è Un'arma Bella Vieni Mi Dero Il Succo Ok Fra Steroidi Inseriti Fra Vieni Che C'è Un Sfra Ma Tanto Io Sono Lummer Quindi Vabbè Prendi La Lossa Io Voglio Provare Il Fuggire Ma Senti Ho Detto Che Un Sola Senti Hai Rotto Il Cazzo Go Vai A Troie Oh Aggiornamento Dice Un Up Gli Sve Po H Fanno No Ma Tu C'hai Quello No Tu C'hai Quello Quei Potenzialmente Rottissimo Vabbiamo Inserto Inbalzo Tieni Premito Cazzo Io C'ho Pochissima Vita Ciao Sono Morto Eh Io Non C'ho Praticamente Tutta Andare Di Marcello Sei In Acqua Dove 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 Sono Pula Devo Porca Latro Corri Fatici Lino Ricordi 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 Aspetta Mettiti Mettiti Non c'è Spuglio E Non E Sta Si Sta Dietro Ricordi 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 l'hai visto a migliora la vita minchia 10 alla volta adesso voglio prendere la schedina dove cazzo la paionico la tua schedina ma dove cazzo vado frasco il martello ce la fai e fra ma sono quelli che migliorano il piscello ma ecco il martello tieni premuto che ti fa rimbazzare a spandolo a l'ho preso adesso vattene 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 vai a prendere la scheda e se ne va a fare fra i dettagli e a prendere la scheda c'è anche un camioncino un ciamino cino e c'è un cespuglio vicino rampa jump or codi corri non c'è gli steroidi aspetta veloce gli steroidi no non li ho mangiato bevi ok no ma non vanno bevi bevi dio port ok adesso girati con la moto ok non torniamo più con la moto torniamo a piedi mai nell'acqua pure torniamo a piedi non più con la moto io porco france questo camioncino che non è per niente rumoroso eh si 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 no merda corri no ma la safe sta montando fermati 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 no ma vaffanculo fermati no ma